Il conto è servito e se non siamo al ristorante siamo al teatro Nino Manfredi di Ostia, dove fino al 14 maggio in scena uno spettacolo firmato dalla regia di Paola Tiziana Cruciani e dove insieme a Corrado Tedeschi e Nino Formicola arricchiscono la pièce delle splendidi attrici. Noi abbiamo incontrato Barbara Abbondanza per farci raccontare qualcosa di più. Il menù di questo spettacolo dici proprio bene perché infatti c'è una cena proprio che viene appunto un tentativo di cena che dovrebbe essere servito per una serie di imprevisti e situazioni rocambolesche che dura da servire e sul piatto ci sono, essendo una nuova drammaturgia, scrittura moderna, ci sono varie tematiche che si affrontano, benché sempre condito da tante risate, però comunque c'è anche un spunto di riflessione perché si parla un po' di varie cose, principalmente essendo una cena fra due importanti presenze a livello politico si parla anche di questo, cioè di giochi di interessi, di potere, tentativi di corruzione per avere favori sia da una parte che dall'altra, quindi insomma questa tematica sicuramente sottende a tutta questa cena che tenta di essere servita. E poi ci sono anche temi come l'immigrazione perché comunque c'è la presenza anche di una, di questa appunto cameriera straniera, arriva anche un altro straniero, insomma ci sono varie tematiche tra cui anche essendoci poi anche la presenza dei due figli, dei giovani che sono in qualche modo internet dipendenti, si parla anche di questa cosa qua, della poca socializzazione, della difficoltà anche di comunicare se non soltanto attraverso questo mezzo che è oggi il web, internet e per cui questa dipendenza dal web, sociopatici. Ci sono vari colpi di scena, neanche uno, ce ne sono vari, non si possono raccontare perché sennò si svelerebbe troppo sulle sorprese e alla fine c'è un grande sorpresone finale!